Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora ovviamente su Fable. La volta scorsa abbiamo accettato le missioni che dobbiamo andare a completare, quindi andiamo. Possiamo decidere di fare qualche sfida. Ecco, molte missioni hanno la possibilità di scommettere sul loro esito. Puoi scommettere una parte dell'eventuale ricompensa della missione nella speranza di guadagnare ancora più denaro. Per fare una scommessa sali sul podio e seleziona una con il mouse. Ecco qua. E qui abbiamo le nostre sfida degli hobbie e scorti mercanti. Sfida degli hobbie. Nessuna protezione, quindi falla nudo. Anche questa non dovrebbe essere male. Uccide almeno 10 hobbie in più di sussurro. Ok. E nessuna protezione. Mani nude e nessun graffio. Dato che devo sfidare sussurro, non mi pare il caso. Scorte mercanti. Possiamo fare anche nessuna protezione. Tutti i mercanti devono sopravvivere. No, questa no. Perché per proteggere i mercanti, se non sbaglio, è la missione che mi serve. Per farti vedere, cioè per farvi vedere già una delle cose che ci permetterà di rompere il gioco. Salve, eroe! Però l'audio mi sembra un po' altino. Aspettate un secondo che controllo... Eh sì, infatti l'audio era un po' altino. Ok, così dovrebbe andare bene. Così dovrebbe andare meglio come audio. Allora, quello che mi segue lì in fondo è il mercante, se non sbaglio. Sì, quindi va bene. Allora, andiamo di qua. Perché, se non sbaglio, quella di scortare i mercanti sarà una missione importantissima per poter rompere in parte il gioco. Sei pronto? È facile quando sai come fare. E' vero che abbiamo sbloccato anche le nuove tecniche, quindi... C'è anche il colpo di grazia che si può fare. È stato un gioco da ragazzi. Quando sono a terra, si può fare anche questo. Vedete, abbiamo utilizzato l'attacco doppio. La nuova tecnica che è... Ok, questi sono comunque abbastanza deboli. Il super mega scarafagione. Allora, questa era la foresta di Greatwood. Quella la oscura, se non sbaglio, vero? Perché proteggi i mercati. Ah no, il frutteto. Oddio, il frutteto... Ah no, questa è quella degli Hobbe. Va bene, facciamo prima questo, allora. Qui le missioni, diciamo... Anche le side quests sono importanti, quindi... Allora, vedete, qui c'è la prima missione. E questa sì, è quella che devo fare con il sussurro. Ah, eccoti qui! Era ora che arrivassi. Stavo per iniziare senza di te. Come stavo dicendo, l'intero frutteto è stato invaso dagli Hobbes. Potrei sbarazzarmi di loro da sola. Ma così dovrebbe essere più divertente. Chi uccide più Hobbes si aggiudica il trofeo, d'accordo? Non importa come, basta che tu li faccia fuori prima che bevano tutto il mio sidro. Quei piccoli scocciatori hanno rotto le mie casse giù al fiume alla fine del sentiero. A quanto pare dobbiamo andare laggiù. Gareggeremo là. Eh, ammazzano i dieci in più... fa che soffrano. Eccoli. Ahia, attenzione. Proprio non ti piacciono gli Hobbes. E un altro... No. Sembra che siamo pari. E un altro per me. Un altro. Sono belli tosti. Un altro. Ma perché glieli dà a... glieli dà a lei? Sei il più veloce qui in giro, non è vero? Cioè, li ammazzo io e glieli... E glieli dà a lei. Ehi, mi hai raggiunto. Mi servono più Hobbes. Un altro. Un altro. Non è giusto. Oh, ma porca puttana. Non ci credo. Cioè, io... È un'ora che combatto... E gliel'ha dato a lei come... Ma va a cagare. Un altro. Cioè, gliel'ha dato tutti a lei. Gliel'ha dato tutti a lei. Un altro. Ma poi sono fortissimi. Madonna, ma quanto cazzo hanno di... Proprio non ti piacciono gli Hobbes, vero? Sì, vabbè. Però così è veramente una scammata questa. È una scammata questa. Una scammata. Completamente scammata. Cioè, io li combattevo, lei arrivava, dava il colpo finale. Ah, devo rifarla addirittura. Addirittura te la dava come fallita, se non facevi più Hobbes. E allora... E allora faccio una bella cosa. Vediamo se posso... Allora, vediamo se posso andare alla gilda. Perché a questo punto voglio vedere se posso potenziare il fisico. Perché se posso potenziare il fisico e mettere la spada a due mani... Eh, mi sa di no. Madonna, 3.000 mi serve. E allora a questo punto facciamo una cosa. Andiamo a fare l'altra missione. Quella di scortare i mercanti. E dopodiché ritorniamo qua. Anche perché, se non ricordo male... Questa di scortare i mercanti mi consentiva di ottenere l'arco più forte del gioco. Perché dovremmo passare, se non ricordo male, dentro la foresta... Dovremmo passare dentro la foresta. E dentro la foresta c'è il tempio... Del signor oscuro. E quel tempio... Se si effettua un sacrificio... A mezzanotte esatta... Se si effettua il sacrificio... A mezzanotte, eh, praticamente. No! Oddio. Oddio, avevo picchiato. Ai ammi. Ok. E praticamente... Quando vai a scortare... Quando vai a scortare i mercanti e ne sacrifichi uno... Che tra l'altro incontreremo per strada. Ah, questo ora vuole il pedaggio, qui. Esatto. Oppure potremmo usare la tua testa come soprammobile. Scegli tu. Beh. Allora, a meno che tu non voglia metter fine ai tuoi giorni... Dacci l'oro. Hai portato l'oro? Bene. Dammelo. No. Ma io l'oro... Non te lo do. Sto aspettando. Ora basta. Sì. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Tranquil. Vai, bastardo. Così non va. Ma poi sono infami perché ti colpiscono, tipo, alle spalle anche loro. Ok. E questi li abbiamo fatti fuori. Tra l'altro qui c'è anche una porta oscura. Non posso guardare. Così non va. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. Alcuni banditi hanno fissato un pedaggio in questa regione. Fai attenzione. Esatto. Allora, andiamo a prendere anche questi. Che sono quelli più forti. Non posso guardare. Mi sento molto nervoso. Questa è la mia agonia. Ok. Adesso sei da solo. Aia. Il tuo livello di salute è basso. Hai delle pozioni o del cibo? Sì, sì, ce le ho le pozioni. Certo, questo qua ovviamente è perché sto combattendo nudo. Potevo anche evitare di combattere nudo adesso. Miglioramento fiamma. Ok, questi sono i miglioramenti per le armi, come vi ho già spiegato l'altra volta. Possono essere incastonati all'interno delle armi. 500 di oro, buono. Ok, qui abbiamo praticamente sconfitto tutti. Come potete vedere lì c'è anche una porta, una porta diciamo del, una porta parlante, no? Quindi vediamo se riusciamo a soddisfare la sua richiesta. Ecco la mia proposta. Tu compi un atto di grande malvagità davanti ai miei occhi e io mi aprirò. Un atto di grande malvagità. Avete visto? Io sono andato dalle spalle. Semplice. Lo so, Darkwood è un posto pericoloso. E allora sì, è la missione quella che dico io. Qua possiamo rompere il gioco. Qua possiamo rompere il gioco. Questo è un teleport. Infatti come potete vedere ci permette di andare e tornare dove vogliamo. Questo è comodo perché ovviamente ci fornisce una shortcut per nuove zone che andremo ad esplorare successivamente. Ovviamente per quanto riguarda l'atto di grande malvagità. Sapete benissimo che l'atto di grande malvagità sta nel uccidere praticamente una persona innocente. Lì davanti alla porta. E questo si può fare quando avremo la possibilità di farci scortare da qualcuno. Qui abbiamo preso nel frattempo un pesce. Eh, questi sono bastardi comunque. Ahia. Ok. Qui c'è un'altra porta. Devo vedere il tuo moltiplicatore combattimento andare su prima di aprirmi. La pozione di prosciutto. Caverne degli obbe. No, caverne degli obbe non mi interessa. Questa porta vuole vedere il moltiplicatore andare su. E qui, esatto, entriamo in Darkwood. Esatto. Grazie a Davo, sei qui. Pensavo che saremmo morti in questo posto diabolico. Dobbiamo andare al campo dei tumuli dall'altra parte di Darkwood. Fai strada. Noi ti staremo dietro. Prima ci lasceremo questa foresta alle spalle e meglio sarà. Ci sono delle cose innaturali qui. Ok. Sto arrivando. Puoi usare l'espressione seguimi e aspettami per controllare un gruppo di seguaci. Sull'interfaccia sensibile al contesto apparirà l'icona seguimi. Quando viene puntata la persona che dovrà seguire l'icona. Aspettami. Quando viene puntata la persona che sta seguendo in quel momento. Se usate con attenzione potrete tenere i mercanti lontano dai guai. Veglia su di loro. A Darkwood troverai la cappella di Scorn. Rispetta il volere degli dèi e loro ti ricompenseranno infondendo il male nella tua arma. Esatto. La cappella di Scorn. Che è esattamente il nostro punto. Aiuto. Qualcosa mi ha morso e mi ha abbandonato credendomi morto. Lasciami venire con te. Non portiamolo con noi. È infetto. Cercherà di mangiare le nostre budella. Abbiamo prestato giuramento. Dobbiamo aiutarlo. Questa non è una buona idea. Proprio per niente. Posso pagarti bene e non ti sarò d'intraccio. Assolutamente sì. Ti sono molto riconoscente. In realtà questo mercante è infetto. E questo mercante praticamente alla fine del livello si trasformerà e ci attaccherà. Quindi questo già ve lo posso dire. Ma perché noi lo stiamo prendendo? Perché il suo scopo all'interno del gioco o almeno all'interno di questo livello sarà ben diverso. Non ne sono così sicuro. Lo offriremo a Scorn. A Scorn, ma anzi Scorn non c'entra. Scorn è un'altra cosa. Sono dietro di te. Allora, qui intanto va bene. Ecco, qui adesso ci saranno i balverini. Aia, 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 aia. Non sono diventato un mercante per essere mangiato dai balverini. Devo ammettere che non vedo l'ora di riabbracciarmi. Aia! Questo... Ok. E questo l'abbiamo fatto fuori. Tu, qual è la tua condizione? Attento, viandante. Io blocco il passaggio a tutti. Tranne ai più abili in combattimento. Se lo desideri, i miei guardiani metteranno alla propria. Supera la loro sfida. Ecco, questa è una porta che possiamo aprire adesso. Yes. Credo che sei per guardiani. Oh! Ho sentito dire che... Come ti permetti? Conviene che ci sia. Uh, attenzione. Lo sapevo che oggi non era giornata. Lo sapevo! Ops. Oh! Ma quanti cazzo siete? Ci stanno attaccando! La smettili di fissare. Mi stanno trasformando. Diciamo che la cosa pesante, da un lato, è il fatto che devo pensare anche... Devo pensare anche ai mercanti. Aiuto! 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 Ehm... Dove ti sei cacciato, eroe? Sta per essere ammazzato! Ehm... L'importante è che non colpiscano... L'importante è che non colpiscano i mercanti. Finché sono tutti focussati su di me... Madonna mia, che palle! Non mi ricordavo fossero così... Porti questi. Mi stanno andando un fastidio, avvicinante. Non so cosa darei per starmene in una locanda al calduccio. Ecco, pozione della... Della resurrezione sprecata. Un culo. Cioè, voi immaginate dovevo fare sta missione a mani nude. E' vero che questa porta è un qualcosa di extra. Ehm... Eh, che cazzo! Ok, anche un altro abbiamo fatto fuori. Oh, finalmente! Non c'era da te, limite di te. Hai sconfitto i miei guardiani. Sì, ok, perfetto. E abbiamo aperto la nostra prima porta di ferro. Oppure la prima porta oscura, in realtà. Cosa c'è all'interno? Un forziere. Cosa c'è dentro il forziere? Stivali della volontà oscura, guanti della volontà oscura, mantella della volontà oscura, veste della volontà oscura. Quindi abbiamo trovato praticamente il set della volontà oscura. Questo serve tecnicamente per i maghi oscuri. È la divisa dei maghi oscuri. Seguimi! Ok, qui adesso possiamo ricominciare a farci seguire. Seguimi! Questo mi riporta alla mente quando sono diventato un mercante. Aspetta, quello mi sa che non l'ho preso? Seguimi! Andiamo? Seguimi! Sto arrivando! Ok, adesso sì. Non l'avevo preso. Qui adesso dobbiamo fare attenzione perché questi sono i fiori che esplodono. Non dovresti avvicinarti troppo a quelle spore. Non avvicinarti troppo. Sono sicuro che arriveremo lì in un baleno. Esatto. Noi invece le facciamo scoppiare prima. Sono così affamato che potrei mangiarmi una persona. Mmm. Rude. Siamo un gruppo di esperti mercanti. Dovremmo vendere la merce e non rischiare le nostre vite. Ok, togliamoli tutti perché... Se pensi che questa sia una brutta situazione, avresti dovuto esserci nel mio ultimo viaggio. Ok. Non credo che si rialzerà di nuovo. Dobbiamo muoverci da qui. Sento che ce ne sono altri. Non smetti di fissarmi. Non mi sto trasformando. Dobbiamo muoverci. Oltre il prossimo cancello. Ovviamente anche i banditi mancavano. Sì, dobbiamo fare in fretta. Mancavano ovviamente anche i banditi. Qui c'è un forziere. Ovviamente noi per ora non possiamo equipaggiare nulla perché la missione ce lo impedisce. O per meglio dire, la sfida ce lo impedisce. Ormai non dovrebbe mancare molto. Ok, qui adesso... Cioè guardate come si sono fiammati subito sui mercanti. Vero subito. Preparati. Andiamo? Fortuna che questi sono più deboli i banditi. Quindi due colpi e li riusciamo a buttare giù. Allora, questo qua lo dobbiamo fare eseguire di nuovo. Seguimi! Ai! Wow! Seguimi! Fai strada! Ok. Allora, qui c'era anche un forziere, se mi ricordo bene. Eccolo qua. Pensa ai guadagni che faremo quando tutto questo sarà finito. Vabbè, dell'oro che non fa schifo. Sì, sì, alcuni banditi arrivano e spuntano così, a caso. Questo era l'accampamento? No, questo era... Ah, il bordello, oddio. Ops. Aiuto! Ma porca puttana! Ma poi colpiscono sempre quello che sta per crepare. Sono dietro di te! 15 chiavi d'argento, quindi per ora... Riffro. Non mi sto trasformando. E qui dovrebbe esserci il campo esatto. Non mi ricordo se loro qua prendevano... Non mi ricordo se... Se loro recuperavano la salute, ma credo di no. Oh, ascia d'acciaio. E qui ci sono ovviamente altri mercanti. Non so te! Penso che potremmo proporti un'offerta speciale. No, questi sono due più getti. Se pensi che questa sia una brutta situazione, avresti dovuto esserci nel mio ultimo viaggio. Penso che potremmo proporti un'offerta speciale. C'era quello... esatto, quello che vendeva le armi. E vedi, danni 49 o più 11. Questo ovviamente fisico livello 3. Questa potrebbe essere buona, però 1900, sinceramente... No. No, no, no. Non c'è bisogno, anche perché qui adesso... Ah, infatti loro hanno recuperato la salute. Infatti. Ok, qui adesso... Dobbiamo fare... Dobbiamo fare ciò che è giusto. Quindi ci portiamo dietro il mercante... Quello infetto. E lui quello infetto. Sì. E andiamo qui. Esatto. Alla cappella di Scorm. A questo punto... Salviamo. Perché se falliamo... Possiamo ricaricare qua. E adesso dobbiamo tecnicamente aspettare la mezzanotte. Quindi quando la lancetta... Della notte arriva a metà... Che è esattamente a mezzanotte. Dobbiamo offrirlo in sacrificio. Se lo faremo nella maniera corretta... Otterremo l'arco di Scorm. Che è praticamente l'arco più forte del gioco. E' tremendo ai piedi. Cerca di aumentare ancora il tuo moltiplicatore combattimento. benvenuto nella cappella di scono non verrà fuori nulla di buono da questo sono pervasi dal fluido del male assoluto nuovi seguaci bene questo discepolo sarà l'eletto che incontrerà il mio creatore il supplico è risparmiato vedete? per ora nuovi seguaci ah ok sempre mi fa il dialogo questo fedele contribuirà a far crescere la tua immoralità no ovviamente non avrai nessuna ricompensa oggi il seguace è libero di andarsene però aspetta perché ora qua il problema è che stiamo andando verso il giorno non verso la notte non mi sento molto bene ma non c'è da preoccuparsi mi riprenderò sento salute non mi ricordo se qua c'era un letto per far avanzare il tempo perché altrimenti devo necessariamente fare un taglio fino a quando non sarà di nuovo notte no non c'è il letto no non c'è il letto no non c'è l'è niente e allora e allora sì andiamo qui e no sbagliato l'antica porta coulis no 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 l'antica porta coulis è dove dobbiamo andare dopo per la missione e dobbiamo andare qui alla cappella di scorm va bene e allora a questo punto a questo punto faccio un piccolo taglio e e vi faccio vedere non appena sarà di nuovo a mezzanotte ok siamo quasi vicini alla mezzanotte la cappella di scorm è da questa parte la cosa importante è quando state aspettando la mezzanotte se volete aspettare la mezzanotte di non tenere troppo tempo il mercante che si trasforma vicino diciamo in una zona della mappa che non sia al di fuori del campo o meglio lasciatelo al campo e voi spostatevi in un'altra zona di mappa perché altrimenti si trasforma quindi fate molta attenzione cioè richiamatelo a voi e portatelo ovviamente con voi quando siete appunto vicini alla mezzanotte perché comunque un paio di minuti può stare nel party però fate attenzione perché dipende quanto tempo di di potere qualche problema allora tra poco ci stiamo avvicinando alla mezzanotte il dialogo devo farlo partire praticamente appena appena scatta la mezzanotte io ogni volta ho qualche difficoltà ad azzeccare alla mezzanotte perché in questo gioco non è chiarissimo perché la freccia si dovrebbe andare al centro ma non ci va mai chiaramente al centro va un po' più indietro un po' più avanti quindi è particolare la cosa la smetti di fissarmi non mi sto trasformando allora dai vediamo ci siamo quasi perché comunque ancora ancora non siamo esattamente a mezzanotte vedete è ancora un po' inclinata ancora un po' inclinato è un po' inclinato ancora come punto di riferimento forse dovrei prendere quella stella lì sta per trasformarmi no stai lontano da me stai zitto ok proviamo adesso bene un'altra donazione il tuo unico seguace sarà l'eletto ok vediamo si sacrifichiamo il dado è tratto lo strumento del sacrificio è stato scelto vediamo se riusciamo a si per questo credo la corda ok sacrifichiamolo qualora non ci riusciste ricaricate la partita fate la parte la prima parte della missione e rifate tutto da capo molto semplice vediamo cosa ci dice in base a quello che ci dice il tuo desiderio di possedere la mia influenza malefica è gratificante è gratificante però non credo che sia la frase giusta oh arco di scorm perfetto perfetto al primo colpo al primo colpo ce l'ho fatto al primo non mi è mai successa sta cosa non mi era mai successa questa cosa non mi era mai successo il primo colpo ogni volta fallivo ogni volta fallivo ok salviamo ora tecnicamente qui si potrebbero anche farmare gli archi di scorm perché se adesso noi andiamo a vedere armi a distanza l'arco di scorm guardate quanto si può vendere 54.720 monete e inoltre guardate i danni 264 danni l'arco di scorm è praticamente l'arco più forte del gioco e quindi potremmo tecnicamente utilizzarlo già adesso perché non richiede nessuna abilità in particolare e inoltre potremmo venderlo per fare cifre astronomiche già a partire da subito quindi io potrei ricaricare la partita perché se ricaricate la partita praticamente rieffettuerete tutto il percorso e così facendo potreste ottenere un altro arco di scorm ovviamente a me non interessa perché a me la cosa importante adesso è avere la possibilità di sfruttare l'arco di scorm per per combattere fare tutti questi danni e letteralmente disintegrare tutto ciò che si muove l'arco di scorm diventerà la mia arma principale per rasciare il gioco fino a quando ovviamente non diventerò più forte e potrò utilizzare anche altri tipi di armi adesso vi farò vedere anche la potenza di questo arco però incredibile ci sono riuscito al primo colpo allora rifacciamoci di seguire dai nostri dai nostri amici e possiamo adesso concludere la missione inoltre abbiamo sacrificato il mercante che si sarebbe trasformato quindi prenderlo all'inizio ci serviva proprio per questo per poterlo sacrificare quindi direi ottimo scambio che abbiamo fatto e adesso vi farò vedere cosa vuol dire giocare ora vi faccio vedere cosa vuol dire giocare con l'arco di scormo scappa questa è la tua sola speranza ti prego ho bisogno d'aiuto ok abbiamo abbiamo visto che cosa può fare l'arco di scormo praticamente one shot a tutto questa è una zona che dovremmo dovremmo rivisitare poi non mi ricordo se qua c'era una zona dove si doveva pescare perché c'era il laghetto ma non mi ricordo se qua c'era una zona di pesca questo è un incubo un lungo terribile incubo questo mi riporta alla mente quando sono diventato un mercante no ok pensavo di sì invece no sono dietro di te ok fai strada ecco questa è la potenza dell'arco di scormo sembra che siamo in viaggio da sempre ve l'ho detto che vi avrei fatto vedere dei trucchetti per per farvi giocare al meglio bastardo ok quando vedete i fulmini potete scoccare la freccia perché vuol dire che avete caricato l'effetto dell'arco dato che infatti l'arco fa danni fulmine e danni taglienti è anche possibile in questa missione farmare le fiale di resurrezione perché se salvate e caricate ogni volta potreste potreste farmare diciamo fiale di resurrezione perché qua se ne trovano addirittura due alla volta in questa missione e poi farmare anche l'arco di scormo io sono quasi tentato nel farmare un altro arco di scormo per avere subito le monete che mi serviranno anche per il futuro sinceramente sono molto molto tentato perché una volta completata questa missione non lo potrò fare più quindi sono abbastanza indeciso sono abbastanza indeciso in realtà perché farmarlo potrebbe essere ottimo come come pretesto però va bene dai non rompiamo troppo il sistema non rompiamo troppo il sistema avremo modo comunque di fare anche altre cose quindi non c'è bisogno di essere così precipitosi nel rompere il gioco possiamo romperlo anche poco per volta allora qui se non sbaglio c'era un forziere da questo lato esatto ah no quelle sono delle casse quindi ok anche qua miglioramento fulmine questo posto non mi piace forse da qualche parte abbiamo sbagliato a girare si si tranquilli tranquilli tanto ormai la missione è finita siamo spacciati sono certo che sa dove ecco qua ovviamente dovevano inserirci il boss di fine livello solo che questo boss ai ma porca vabbè si ciao guardate quanti hp io ho tolto guardate quanti hp gli levo con una freccia sola morto morto missi abbiamo ottenuto anche il rubino e qui praticamente ci ci addentriamo verso la fine della missione siamo arrivati al campo dei tumuli conosco la strada da qui seguitemi qui abbiamo sbloccato un altro teleport lì ci sono altre zone che andremo a visitare poi non ci posso credere ah eccoti ti sta ok fine oh questo è un fungo blu il secondo fungo blu l'abbiamo preso vabbè potrei anche pagare effettivamente la multa si dai consegniamo non mi conviene essere ricercato in questa zona oh no mai più un altro avventuriero pelle e ossa che c'è sei troppo gracile per ti voglio robusto smettila di comportarti torte carne birra ingrassa ok quindi qui dobbiamo fare un po' di 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 fuori programmo per entrare qui allora vediamo qua cosa c'è ma se non sbaglio c'era un'altra chiave anche per la difficoltà del del minigioco si capisce che c'è qualcosa di più interessante che c'è Infami Ok Un pesce Oddio Pensavo ci fosse una chiave qua Va bene Detto questo direi che allora Ci possiamo salutare E la prossima Ovviamente nella prossima puntata Andremo ad umiliare Fussurro contro Iobes Che in questa puntata Non ha giocato correttamente Quindi grazie ancora per essere stati con me E alla prossima Bye bye